e dallo psicologo al Don passiamo. Ah che bello io ricordo ancora con grandissimo affetto e perché non rifarlo quella mattinata che passammo mettendo a confronto anche fisicamente vicini Don Antonio e Raffaele Morelli due persone soprattutto desiderose di ascoltare. Sì. Oltre che naturalmente grandi amanti della parola come facciamo e come ricordiamo ogni mattina caro Don Antonio un abbraccio forte. Perché non lo rifacciamo? Farciamolo a settembre. Ci organizziamo dopo le vacanze. A settembre questa è proprio una cosa da rifare. Proprio poi ha sempre ragione lui però. Questo non lo so. Senti 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 per tutti quelli che stanno viaggiando il viaggio più lungo è il viaggio interiore. Il viaggio più lungo è il viaggio interiore ed è un viaggio che non finisce mai. Ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao. Buona giornata Don.